La preannunciata perturbazione che sta investendo l'Italia e l'Abruzzo è arrivata questa notte anche sull'area Vestina. Adesso ci troviamo a Farindola dove la situazione è sotto controllo ma il pericolo resta il ghiaccio che si sta formando in queste ore. Come detto la neve è comparsa dalle prime ore della notte e non sta creando disagi alla circolazione grazie alla pronta organizzazione dei comuni e della provincia di Pescara che non si sono fatti cogliere di sorpresa azionando i relativi piani neve già dalla tarda serata di ieri. Appenne già da ieri è stato attivato il centro operativo comunale coordinato dal consigliere con delega alla protezione civile Baldacchini che sta monitorando la situazione specialmente nei pressi dell'ospedale San Massimo per garantire l'arrivo dei pazienti dializzati. Chiuse le scuole di ogni ordine grado dove il sindaco Mario Semproni ha emesso ordinanza di sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di domani martedì 27 febbraio. A Loretta Prutino situazione tranquilla e ben gestita dal comune e dalla PAV la locale protezione civile con il sindaco Starinieri che ha ordinato sia la sospensione delle attività didattiche anche per domani sia la chiusura dei parchi pubblici e degli impianti sportivi. Resteranno chiuse le scuole domani anche a Villa Celiera, Montebello di Bertona, Civitella, Casanova e Farindola dove la situazione come negli altri comuni per adesso è sotto controllo. Decideranno invece nel pomeriggio di oggi consultando i prossimi bollettini della protezione civile i sindaci dei comuni di Pianella, Moscufo e Cole Corvino. Nessun disagio è stato riscontrato per ora sulle arterie provinciali e comunali dove sono stati garantiti dalla società tua tutti i collegamenti in pullman da e per Pescara. Il pericolo maggiore nelle prossime ore potrebbe arrivare dal ghiaccio che andrà a formarsi su strade e marciapiedi, complice le basse temperature previste nelle prossime ore con gran rischio anche per il comparto agricolo dell'area.